Ciao a tutti ragazzi, oggi recensirò questo microfono che mi è arrivato da poco su Amazon e mi serve per migliorare la qualità dell'audio, per non far sentire rumori esterni. Comunque, allora ragazzi, iniziamo subito. Allora, vediamo cosa c'è all'interno della confezione. All'interno troviamo il microfono, eccolo qua, in cui vi farò vedere anche nel video che si mette con questa spilla sulla maglia. Poi abbiamo all'interno della confezione un ricambio, gommini di ricambio più un altro tipo di jack da 3,5 mm e il foglio delle istruzioni. Queste sarebbero tutte le cose che stanno in confezione. Questo microfono piccolino. Voi, ora, mi dobbiamo mandare a cosa serve. Allora, serve per fare video, per conferenze. È molto utile, anche per esempio chi fa una conferenza lo può utilizzare, ve lo consiglio. Allora, sta su Amazon, vi rimango il link in descrizione, sotto nei commenti, in cui lo potete utilizzare in caso lo volete comprare. Sta su un prezzo di 15€ in offerta su Amazon in questo momento. L'unica pecca che ha i fili, che io non sopporto molto, preferisco quello wireless, in cui posso collegarlo direttamente su treppiedi senza fili. Infatti, però, questo prezzo ve lo consiglio, 15€, sicuramente è buono. Invece, se lo volete senza fili, lo potete trovare sui 200€, 150€, anche molto utile. Questo è il microfono. Ora vi farò anche vedere nel video come funziona e come si mette sulla maglia. E fatemi sapere anche nei commenti come si sente la qualità, sentono pochi rumori di sottofondo, eccetera. Vediamo nel video ora come funziona. Comunque, si può collegare, ecco, come vedete sulla maglia, con una spilletta, molto comodo. Ora devo vedere se funziona, se riuscite a sentirmi bene. Devo capire anche se riesce a subire i rumori esterni, cioè in caso passa una bicicletta o altro, ma non lo so questo. E' molto piccolo, molto compatto. L'unico problema è che sta a filo. E io questa cosa lo odio, i fili le sto un po', odiando l'ultimo periodo. Infatti preferisco un microfono senza filo o, per esempio, cuffie senza filo, wireless. Ora mi sto trovando bene e lo sto autorizzando. Fatemi sapere nei commenti se riuscite a sentirmi bene. Condividete, commentate e iscrivetevi al canale.